Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it E' certo perché il tempo ci ha insegnato che ogni partita, intendo dire ogni avversario, propone delle difficoltà sicuramente differenti, sicuramente un po' più alte, leggermente spostate verso un'altra direzione, ma rimane il fatto che su ogni partita c'è un avversario che propone delle difficoltà e che ogni partita va assolutamente approcciata con la massima attenzione e l'assoluta idea e il desiderio di giocare una partita di livello perché è necessario. Ravenna sicuramente proporrà atletismo, energia, è una squadra che per caratteristica corre il campo, perché corre insieme con Anthony, che spinge la palla, è una squadra che ha una sorgente Anthony che crea vantaggi, ha giocatori specialisti, Bonacini, Musso e Petrovic, ha un corpo importante dentro l'area come Lewis e ha energia dalla panchina, andremo a capire anche quanta energia potrà portare Oxiglia nelle ultime ore. Noi saremo chiaramente per volontà, vogliamo essere concentrati anche, non anche, concentrati sulla nostra prestazione, nella lettura di Ravenna dovremo cercare di sviluppare con grande presenza il piano partita per togliere a Ravenna i punti di forza che sono le certezze attraverso i quali costruiscono le partite. Dovremmo pensare alla miglior performance nostra, consapevoli che Ravenna può fare più di una cosa all'interno anche della stessa partita, da essere contenitivi, da essere aggressivi, da proporre delle zone, lì è necessario essere tutti collegati per avere poi una reazione comune all'azione difensiva di Ravenna. Negli ultimi 48 ore, 72 ore, c'è stato il recupero di Pietro, Davis sta progredendo nel suo iter e l'ultimo step, spero e mi auguro finale, sarà quello di domani che starà dentro la squadra venendo in panchina ma non ha ancora autorizzazione a giocare, però intanto, voglio dire, comincia a sentire gli odori della competizione. Avete già ricevuto il comunicato su Biordi e quindi cercheremo di essere nella consapevolezza della forza della nostra roccaforte, cercare di riprendere la scia di Rimini e di Chieti, lasciandosi alle spalle, assolutamente Mantova. Grazie. ha un impatto sulla sede, la lunghezza della squadra, avrà un impatto su questo, cioè essere pronti con più giocatori, visto che Mantova ha rispetto ai cinque, uscite per Fali, sono tutto quello che... e anche se questo ci leggi la scelta di Biordi, perché magari comunque... Sulla scelta di Biordi, onestamente, sulla scelta... su domani di Biordi, sulla scelta di Biordi è una scelta, voglio dire, io già fatico a rincorrere la difesa sul piccarrolo, come attaccare un po' sbasso, non mi prendo in carico anche di... Non mi prendo in carico di entrare dentro a queste dinamiche, cioè, voglio dire, altrimenti mettere i piedi ovunque e quant'altro, quindi... sono... su questa cosa sono assolutamente, voglio dire, spettatore interessato, ma con... con una incidenza... voglio dire... nulla. Sì, comunque, stando su quello che è il cuore della tua domanda, dovremmo essere anche molto smart, intelligenti, mettetela come volete, nel fare le valutazioni di queste partite ravvicinate, arrivando da un momento in cui, proprio a livello numerico, abbiamo attraversato un'emergenza che non è finita. Perché dico non è finita? Perché non è che noi abbiamo messo a riposo, in sospeso, in sospensione, un corpo di una... di un elemento meccanico. Non abbiamo posato sul bancone, no? Il cilindro che poi dà vita ad una qualsiasi macchina di cui vogliamo pensare. Abbiamo... abbiamo... questo chiaramente vale sia per Pietro e ancora di più per Davis. Cioè, sono delle persone, sono degli uomini con delle emozioni, con delle situazioni emotive vissute, perché è un fastidio, perché è un dolore, perché ha l'impossibilità di giocare. Hanno saltato un periodo sostanzioso, perché dieci giorni sono stati... sono stati i giorni di Pietro. Stiamo entrando tra la quinta e la sesta settimana con Davis. Quindi non è così scontato che preso il cilindro imbullonato dentro la macchina, poi la macchina va. Devono riprendere una loro confidenza, devono riprendere una loro condizione, devono riprendere un loro ritmo all'interno della squadra e la squadra deve riprendere il ritmo insieme con loro. È tutto proporzionato ai giorni di assenza, ma rimane il fatto che è un elemento. Dovremmo essere bravissimi. Noi, per chi è rimasto dentro al campo ad accoglierli, dovranno essere bravissimi loro a farsi trovare. Non dico solo pronti, perché anche non è semplice, ma cercare di fare delle cose le più semplici possibili per entrare dentro con sensibilità, dentro casa. In questo discorso, chiaramente, il testo è diventato, in chiaro che la confusione, ma parlando solamente a livello mentale, questo stop, questo po' mi ha aiutato a sentire che la confusione non è semplice, ma non è semplice. Sorrido, perché inciampo una volta al mese. È molto probabile, o meglio, la risposta più corretta che sento più mia è probabile, troglierei molto. È probabile, perché se ha avuto una attenta lettura di quello che è successo nel frattempo, mentre lui era in sospensione, probabilmente, voglio dire, se è stato attento, sicuramente la lettura può avergli portato beneficio. Aggiungo anche che è importantissimo, al limite del decisivo, che lui nel rientrare al di là della condizione, al di là della fiducia, si poggi il suo rientro sulle cose le più semplici, perché è sicuramente funzionale per riprendere il ritmo, e probabilmente alla ricerca delle cose più semplici, più funzionali, facilita il suo rientro, certo, ma probabilmente facilita anche il suo stare dentro la squadra. Se, sì, mi piace rimanere su questo scenario, non pensare a quello opposto, differente. Riconoscendole alcune difficoltà che la situazione ci ha proposto, mi farebbe piacere, anche riconoscendo quelle difficoltà, che ci fosse più lucidità e serenità da affrontarle, senza che delle difficoltà che già oggettivamente esistevano, fossero state poi, siano state, chiedo scusa, poi ancora più in aumento, si siano poi enfatizzate, si siano ingigantite, perché l'approccio emotivo non è stato di sostegno. Eravamo in difficoltà, sì, lo sapevamo, situazione oggettiva, avremmo dovuto, potendo rivivere, poi purtroppo non si può, ma potendo rivivere, avremmo dovuto essere, in quelle situazioni oggettive di difficoltà, molto più lucidi. L'abbiamo persa, e quindi abbiamo aggravato già l'oggettiva difficoltà. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.